Balmar presenta il SalvaSalumi, il sacchetto che mantiene la prima fetta sempre fresca. Lo sapevi che conservare i salumi nel foglio d'alluminio è sconsigliato? L'alluminio, a contatto con alimenti acidi e salati, potrebbe rilasciare sostanze metalliche dannose per la salute. Lo sapete che conservare i salumi nella pellicola aumenta la produzione di muffe? La pellicola per alimenti non lascia respirare i salumi, alterando il colore, il gusto e la qualità dell'alimento. Lo stesso accade se conserviamo i salumi nei contenitori ermetici o nelle buste di plastica. I salumi si seccano, invece, se si avvolgono in un semplice tessuto. Come evitare che una cattiva conservazione possa causare infezioni e intossicazioni alimentari? È semplice, basta utilizzare il sacchetto salvasalumi, l'unico brevettato. Grazie al doppio strato di puro cotone e alla speciale pellicola traspirante, la prima fetta è sempre fresca. E non hai più sprechi! Il sacchetto salvasalumi regola la traspirazione, conserva più a lungo il gusto dei salumi, mantiene inalterata la qualità delle carni. Conservalo in frigo senza timori, il sacchetto non lascia entrare gli odori. Il sacchetto è disponibile su salvasalumi.com Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!